allora vediamo un pochino se arriva intanto geni ci sei? certo si mi sentite? si ti sentiamo benissimo non arriva il video però vi sento ad entrambi provate a rimandare il video vediamo un po perché non arriva il video e lo so però non arriva il mio? no no dovresti riprovare rinvia di nuovo il video vediamo un po che succede che succede? gira la ruota gira la ruota era un altro programma televisivo di mike buongiorno se ricordo bene e vabbè niente e ragazzi non so cosa dire non arriva il video non è un problema mio questa volta lo giuro non mostrare già lì ci sei? io si mi vedo sul mio skype e ho mandato il video l'ho interrotto e rimandato io sono rimasto visto un'immagine e poi si è piantato a me non arriva nessuna immagine come potete vedere dalla cellula dallo schermo della diretta non appare nessuna immagine ecco appare la foto di luca ora mi vedo adesso provare e inviarlo di nuovo aspetta riprovo si altrimenti vi richiamo dai facciamo così vi richiamo ok proviamo a richiamare il gruppo e vediamo cosa succede ok vediamo se adesso arriva il video provate di inviare il video luca vediamo che succede ora mi vedo adesso vedo gianni e vedo anche luca perfetto allora io lascio la conduzione dello spazio di introdolce a gianni coracione il nostro direttore il quale vi presenterà anche luca pardi l'associazione già la conoscete perché già stata nostra ospite prego gianni a te la parola allora come sempre un saluto a tutti ringraziamo anche luca di partecipare a questa nostra diretta e siamo oggi in argomento con luca pardi parliamo di energia e luca ci illustrerà un aspetto particolare riguardante ovviamente gli scenari futuri energetici a livello globale per quanto riguarda l'estrazione petrolifera un argomento comunemente titolato conosciuto come il picco del petrolio e che è primamente va a prendere in considerazione poi gli scenari futuri del consumo di questa di questa fonte energetica che praticamente è in alcune parti del mondo diciamo parzialmente sostituita dalle da altre forme di energia in altre parti del mondo invece tra tutto nei paesi cosiddetti emergenti addirittura in aumento e quindi luca io proporrei darti appunto a te la parola magari poi potrei interloquire per quanto poco ne so con qualche domanda e soprattutto con quello che viene dalla chat ovviamente ti darei la parola appunto per illustrare diciamo sommariamente di che si tratta e e poi appunto per entrare più in in dettaglio sulla questione a te luca si grazie grazie della di questa opportunità che ci date di di approfondire alcuni aspetti della 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 questione energetica è una questione in realtà con cui abbiamo investito l'area radicale da ormai almeno sette anni anche otto e quindi in un certo senso per un certo tempo siamo stati sorpresi del fatto che la che la questione non fosse non fosse ben conosciuta e nemmeno a volte chiara praticamente tutti però è questa è una forma di diciamo di di presunzione che uno ha quando pensa di aver capito una cosa in realtà la questione del piccolo petrolio non non è una questione tanto semplice è talmente poco semplice che poi in realtà ci sono cattive comprensioni della 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 questione stessa la prima cosa che si può dire del picco del petrolio è quello che non è il picco del petrolio non è la fine del petrolio il petrolio è un una fonte energetica fondamentale ed è essenzialmente contenuta in giacimenti che sono che sono distribuiti in maniera non uniforme nella crosta terrestre e questi giacimenti hanno delle delle caratteristiche per le quali essenzialmente una parte del petrolio rimarrà per sempre laddove e quindi di fatto il petrolio non non finirà mai quello che finirà molto probabilmente è l'uso del petrolio da parte dell'uomo questa è la prima cosa che si può dire la seconda cosa che si può dire è che molto probabilmente una cosa che finisce e che è già e che è già finita è il petrolio buon mercato cioè il petrolio a basso costo e questo è essenzialmente quello di cui stiamo parlando perché per se noi vogliamo parlare della delle quantità immense di combustibili fossili che sono contenute nella crosta terrestre possiamo anche divertirci a fare inventari all'infinito e dire che siamo sommersi da quantità crescenti di petrolio perché ogni giorno diciamo ne scopriamo una una quantità più o meno grande la realtà delle cose è che quel petrolio che viene scoperto deve essere poi tirato fuori cioè estratto cioè come si dice in linguaggio tecnico prodotto e di fatto la questione è che in questo momento da almeno 2004 la produzione petrolifera a dispetto delle variazioni di prezzo che ci sono state sul mercato a dispetto del notevole sforzo da parte delle compagnie petrolifere la produzione non è più aumentata è essenzialmente stabile su un alto piano si dice in gergo si dice plateau e di lì non si schioda essenzialmente che cosa è successo è successo che una parte del petrolio la parte che abbiamo utilizzato negli ultimi 50 anni in maniera abbastanza liberale abbiamo utilizzato per mandare avanti il meccanismo dell'economia globale ha raggiunto il proprio picco e ha iniziato il declino e questo si tratta del petrolio cosiddetto convenzionale cioè quello che viene dai grandi giacimenti che hanno fatto la storia degli ultimi 50 anni ma anche di più perché in realtà le grandi scoperte sono alla metà degli anni 30 questo petrolio qui è andato in declino e la categoria di petrolio che è venuta a sostituirla è un petrolio che viene da giacimenti cosiddetti non convenzionali quindi il cosiddetto offshore il petrolio che viene estratto da piattaforme oceaniche spesso in condizioni abbastanza difficili oppure le cosiddette sabbie bituminose gli oli pesanti del venezuela e compagnia cantante tutto questo viene identificato in maniera imprecisa diciamo ma tecnicamente significativa come petrolio non convenzionale ed è questo che in un certo senso ha mitigato il declino del petrolio convenzionale però il fatto è che questo petrolio cioè questa fonte il petrolio non convenzionale costa di più è più impegnativo dal punto di vista tecnologico quindi si conferma il fatto che la tecnologia è adatta a risolvere alcuni problemi ma non può fare miracoli e non può fare miracoli nel senso che se uno fa un confronto fra un tipo di giacimento come sono quelli che hanno prodotto per 30 anni 40 anni 50 anni il petrolio di cui abbiamo fatto uso e va a vedere come funziona una piattaforma petrolifera come quella che ha avuto il famoso incidente di Water Horizon nel Golfo Persico si rende conto che il salto tecnologico è enorme e che la complessità della struttura e quindi anche la difficoltà di controllarne tutte le parti è estremamente più importante e quindi naturalmente questo comporta anche costi economici superiori questo è essenzialmente un'introduzione direi una bugia se dicessi che non mi aspettavo una domanda su che cosa è il picco del petrolio il picco del petrolio è semplicemente una cosa è il massimo di produzione globale della fonte petrolifera questo naturalmente non è stato ancora raggiunto però se uno va a vedere il petrolio come somma la produzione petrolifera come somma delle produzioni dei singoli bacini che possono essere bacini nazionali oppure internazionali come per esempio il bacino del mare del nord che è suddiviso fra Norvegia, Danimarca e Inghilterra vede che questi bacini singolarmente uno dopo l'altro hanno raggiunto un massimo di produzione e dopo questo massimo è iniziato un declino non tutti naturalmente i bacini per esempio il Medio Oriente ancora preso come unico bacino non ha raggiunto un picco e anche esso su un plateau la Russia, l'ex Unione Sovietica e la Russia hanno raggiunto un picco nella fase sovietica poi c'è stata una ripresa nella fase di mercato e una successiva stabilizzazione su un plateau probabilmente inizierà un declino molto presto comunque la sostanza delle cose è che il picco del petrolio non è una teoria è un fenomeno osservato in diversi bacini petroliferi il Messico, il mare del nord eccetera e naturalmente ci si aspetta che ci sarà un picco mondiale vedendo il pianeta come un singolo grande bacino dato dalla somma di tutti i bacini ecco io diciamo questa prima introduzione al picco del petrolio direi si Luca volevo soltanto chiederti una proprio su questa fase introduttiva quando tu parli di questo petrolio non convenzionale e quindi praticamente accenni appunto a queste petrolio trivelazioni e piattaforme parli praticamente del petrolio che si trova a profondità più alte, cioè più profonde, a profondità maggiori nella grossa terrestre e che quindi praticamente tanto per individuare un pochino è anche quello che oltre a richiedere una maggiore tecnologia è una tecnologia più sofisticata e comunque fatalmente espone anche a un rischio ambientale maggiore se questo ti conferma su questo sì sì certamente, questo è uno dei fatti tra l'altro leggevo oggi una recensione di un libro che non è ancora uscito su un blog in lingua inglese che si chiama The Oil Drum che è consigliato a tutti quelli che hanno un interesse specifico nelle questioni energetiche e che hanno naturalmente una buona comprensione della lingua inglese questa recensione di questo libro è stata scritta da un membro di questo blog da uno degli editori del blog ed è la recensione del libro di Pazek e Tainter Tainter è famoso per aver scritto a proposito della caduta delle civilizzazioni è un antropologo in realtà invece Pazek è un chimico che si occupa specificamente di geologia petrolifera e hanno scritto proprio questo libro partendo dalla questione dell'incidente nel Golfo del Messico e mostrando un fatto che appare abbastanza evidente e cioè che questi sistemi molto complessi come per esempio le grandi piattaforme petrolifere sono inevitabilmente soggetti a incidenti perché il controllo dei diversi settori di questi impianti industriali è praticamente impossibile controllare ogni parte inoltre generalmente i diversi settori sono controllati da aziende diverse e quindi ci vuole un'interfaccia non funziona sempre alla perfezione quindi in un certo senso riduceva anche questa affermazione qui sembra mettere anche un pochino più in dubbio il dolo nel come si è manifestato questo incidente semplicemente che il sistema è talmente complesso che poi questi incidenti devono succedere per forza essenzialmente la probabilità che succedano è molto molto alta proprio perché il controllo totale di questi sistemi non è possibile sicuramente c'è anche questo e c'è anche un'altra cosa c'è che appunto andare a raggiungere questa risorsa che è fondamentale infatti il titolo di stasera non era soltanto centrato sul picco del petrolio era incentrato un po' sulla crisi economica, crisi energetica, crisi ecologica perché effettivamente le difficoltà che stiamo incontrando nel andare a ricercare questa risorsa il petrolio che è assolutamente centrale ed è indispensabile al momento per il metabolismo economico globale è un po' la rappresentazione di quei limiti dello sviluppo che hanno mille altre rappresentazioni sia dal punto di vista dell'approvvigionamento di risorse cioè quello che si dice in gergo ecologico le sorgenti sia dal punto di vista delle discariche cioè della saturazione dell'ambiente con i cascami delle nostre attività ecco questo è un pochino il picco del petrolio e il petrolio e il suo consumo sono un pochino ciò che rappresenta tutto il cuore della crisi che stiamo attraversando bene a questo punto ecco è chiaro che dopo un'introduzione esplicativa passiamo un pochino a dopo un'analisi passiamo un po' delle proposte di soluzione le proposte di soluzione sono tantissime e non sono nemmeno queste di facile gestione perché in realtà bisogna capire che una transizione da un sistema economico che viaggia con i consumi con cui ha viaggiato negli ultimi decenni il sistema economico globalizzato non è una cosa che si fa in pochi mesi nemmeno in pochi anni insomma qualcuno ha con un'analisi dettagliata di tutti i consumi e dei fluzzi di energia nel sistema economico scusate c'è la mia figlia che sta arrivando salutiamo la bimba in grande spolvero dunque la questione è qualcuno ha fatto chiedendo scusa qualcuno ha fatto un'analisi dettagliata dei consumi e degli usi dell'energia nel metabolismo sociale ed economico ed è arrivata la conclusione che essenzialmente quello che ci troviamo a fronteggiare è un tipo di crisi o di un tipo di dinamica che diciamo come minimo investe un'attività di 10 o 20 anni perché? perché se uno fa a guardare come stiamo utilizzando le fonti fossili allora se guardiamo un se guardiamo un un diagramma di consumi vediamo che essenzialmente i consumi si riducono in 30% faccio così a un terzo carbone un terzo gas un terzo petrolio e poi diciamo 10% nucleare rinnovabili eccetera allora c'è un 80 diciamo no ho esagerato perché in realtà l'80% poco più che viene occupato dalle 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 fonti fossili allora queste fonti fossili quindi sono centrali nel nel consumo energetico mondiale ma il petrolio ha una centralità perché io mi sono fissato negli anni col petrolio mi sono fissato con gli anni nel petrolio perché se voi andate a vedere basterebbe che ciascuno di noi riflettesse su che cosa ha fatto oggi o che cosa ha fatto nella settimana e si rende conto che il 90% delle cose senza il petrolio non le avrebbe fatte nemmeno se ha sfruttato energia elettrica che viene da una centrale a carbone o da una centrale a gas più probabilmente perché perché l'estrazione del carbone e la 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 produzione di gas il trasporto del gas la costruzione degli dei gasdotti le le eventuali navi gas gasiere che hanno trasportato il gas in non vanno a elettricità o a gas o a carbone ma vanno a gas olio e quindi dipendono dai prodotti petroliferi lo stesso vale per le centrali nucleari è un è un'illusione il fatto che le centrali nucleari sono indipendenti da in realtà il petrolio è la linfa vitale del nostro mondo senza questa noi non possiamo pensare a nulla delle azioni che facciamo quotidianamente basta dire che essenzialmente più del 90 per cento dei trasporti che sono una cosa importantissima nella vita di oggi sono dipendenti da prodotti petroliferi quindi una sostituzione una transizione a un panorama energetico diverso che riduce seriamente non come si sta facendo ora parlandone molto e facendo poco che veramente finalizzato alla sostituzione dei combustibili fossili con altre fonti cioè le fonti rinnovabili è un'impresa molto 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 laboriosa ecco questo è una cosa che va detta con chiarezza comunque poi diciamo è sempre un discorso di chi prima parte prima arriva è un po' diciamo un discorso tipo quello della raccolta differenziata dei rifiuti insomma sì sì certamente sono discorsi correlati chi prima parte prima arriva infatti chi è partito prima ha già coperto una parte del proprio fabbisogno con le fonti rinnovabili io personalmente sono faccio parte degli scettici nel senso che anche nel fronte di quelli che sono favorevoli alle rinnovabili io sono uno scettico nel senso che non credo che le fonti rinnovabili forniscano un flusso di energia sufficiente a mantenere in piedi il sistema in una configurazione business as usual come è adesso quindi non esiste la possibilità secondo me di modificare il sistema in maniera diciamo indolore passando dall'uso smodato di combustibili fossili a una sostituzione angelicando la produzione energetica per mezzo delle fonti rinnovabili e mantenendo in piedi il baraccone di cui facciamo uso in questo momento il baraccone intendo dire ognuno con la sua macchinina ognuno con la sua macchinona e tutto il resto delle cose insomma il centro commerciale a 40 km della città e si fa la fila in autostrada per andare al centro commerciale questa cosa qui secondo me è destinata a finire e cioè siamo sull'orlo di una cesura di un cambio di paradigma quello che si chiama cambio di paradigma questo cambio di paradigma deve necessariamente appoggiarsi alle fonti rinnovabili ma non si può pensare è mia opinione che non si possa pensare di aggiustare una combinazione di fonti rinnovabili efficienza e altre belle cosette per mantenere in piedi il tipo di metabolismo sociale ed economico che abbiamo adesso per lo meno nei paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo perché voglio dire la scena e l'india sono un pezzo in là quindi per questo che io penso che vai 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 pure si dico dopo no no è per questo che io penso che dal punto di vista diciamo politico la comprensione del picco del petrolio che io mi rendo conto non è una cosa facile e noi stessi voglio dire che studiamo il picco del petrolio ormai da tempo abbiamo riaggiustato le cose perché magari 15 anni fa io ancora non me ne occupavo ma i geologi petroliferi che per primi hanno segnalato la cosa pensavano che essenzialmente fosse una questione geologica il petrolio a un certo punto arriva a delle condizioni cioè i giacimenti sono in delle condizioni per cui la produzione comincia a calare naturalmente è una combinazione di fattori geologici tecnologici ed economici e su questo ormai siamo tutti d'accordo però il picco del petrolio è ritornavo a dire quello che dicevo prima è in un certo senso rappresenta in sé quel raggiungimento dei limiti dello sviluppo dei limiti della crescita detto più correttamente di cui si parlava già 40 anni fa e rispetto ai quali non abbiamo fatto assolutamente nulla rispetto ai quali non ci siamo preparati non si è sintetizzata una politica che avesse un minimo di coerenza rispetto al dato incontrovertibile del fatto che l'ambiente in cui viviamo ha dei limiti sia dei limiti ripeto dal punto di vista delle sorgenti cioè dal punto di vista delle risorse che possiamo estrarre sia dal punto di vista dei rifiuti che ci possiamo scaricare dentro con rifiuti io mi riferisco a una cosa generale non soltanto naturalmente ai rifiuti solidi urbani che sono solo una fetta dei rifiuti rifiuti sono anche l'anidride carbonica che spariamo in atmosfera che è causa del cambiamento climatico come tutti sanno quindi il picco del petrolio da questo punto di vista nella mia storia personale è stato centrale nell'arrivare a questa conclusione però io credo che lo sia anche dal punto di vista oggettivo è rappresentativo di una situazione anche perché è molto legato a mio parere alla crisi economica che stiamo vivendo quindi c'è una crisi economica che si è manifestata è la parte manifesta di una crisi più profonda che è una crisi ecologica della specie umana dovuta in gran parte all'esplosione demografica esplosione demografica che a sua volta ha una causa abbastanza semplice la disponibilità indefinita di energia che si è trovata come regalo diciamo come portato della rivoluzione industriale che ha portato sul piatto questo flusso di energia a buon mercato che da due secoli ci investe la società e che permette tutta una serie di cose anche bellissime che però a un certo punto siccome questa fonte non è infinita per tempo prima di trovarsi nelle condizioni di crisi avremmo dovuto pensarci ora siamo veramente alle strette cioè o ci si pensa ora oppure si aspetta che la natura pensi per noi questo è quello che noi diciamo da anni infatti volevo interlocuire con te su questo ultimo aspetto e ti volevo scusa ti volevo dire che se praticamente era possibile intrecciare questo discorso energetico che era anche con la tematica base di rientro dolce che era anche la pressione antropica in qualche modo che sul pianeta insiste come diciamo ovviamente più si è più si consuma però nello stesso tempo da quello che tu ci dici abbiamo in qualche modo consumato in un modo non sostenibile fino adesso rispetto ad un bilancio un bilancio diciamo prospettico guardato nel futuro perché abbiamo in qualche modo sostenuto abbiamo mantenuto un livello di consumi energetici tali che non possono ovviamente essere protratti nel tempo e questo del piccolo petrolio ne è un esempio e quindi però nello stesso tempo c'è il problema che ci vuole per esempio Claudio Scaldaferri che ci chiede perché in passato e ancora oggi la ricerca che poi dovrebbe essere quella che che dovrebbe avere maggiori prospettive del futuro ha girato attorno al business del petrolio a te la parola dunque sulla questione della 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 pressione atropica non c'è secondo me diciamo non ora è è sempre una cattiva cosa dire non ci sono dubbi però se uno insomma guarda le curve dell'aumento della pressione della della popolazione umana e il consumo di energia vede che c'è la correlazione fortissima ora tutti sanno che quando c'è una correlazione non c'è un un rapporto causale questo è un è un dogma a cui ci dobbiamo sempre attenere però è molto è molto è molto uno è fortemente portato a pensare che in realtà la correlazione ci sia anche perché se uno guarda che come viene utilizzato il petrolio essenzialmente si rende conto che la prima la prima cosa che 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 si può dire è che il petrolio permette di produrre più cibo permette di produrre più cibo e quindi permette di di sostentare una una popolazione maggiore diciamo il livello di sostentamento di una popolazione animale o anche vegetale quindi di una popolazione di un organismo vivente in un dato ecosistema è definita diciamo da una da una grandezza che viene chiamata capacità di carico che appunto la popolazione massima che quell'ambiente può sostenere con le risorse che ha a disposizione è chiaro che l'uomo con la sua intelligenza capacità di manipolare l'ambiente ha modificato la capacità di carico del pianeta e lo ha fatto costantemente anche prima della scoperta delle fonti fossili ma quando ha scoperto le fonti fossili è scoppiato si è aperto il vaso di Pandora e in un certo senso nel 1800 cioè quando eravamo agli albori dell'uso del carbone si stava cominciando a vedere che c'era anche questo liquido oleoso che poi abbiamo chiamato petrolio olio di pietra eravamo un miliardo e quindi la nostra popolazione in due secoli è stata moltiplicata per 7 siamo 7 miliardi adesso un caso che dal punto di vista naturalistico per coloro che studiano per esempio le popolazioni di altri primati noi ci dobbiamo vedere insomma comunque anche tassonomicamente vicini ai nostri cugini scimpanzee orangotang eccetera è un'eccezione assoluta cioè si parla di popolazioni di qualche milione di esemplari rispetto a una popolazione che è esplosa ai livelli di miliardi ripeto la popolazione umana è andata sempre crescendo l'uomo ha sempre sfidato la capacità di carico degli ecosistemi a volte ha perso perché per esempio ci sono stati altri crolli di grandi civilizzazioni la civilizzazione maia probabilmente lo stesso imperio romano che sono stati legati a questioni strettamente legate all'ambiente anche se sull'impero romano ci sono centinaia di ipotesi quindi lo lascio da parte per il momento ci sono ci sono prove che noi abbiamo naturalmente sfidato questa la capacità di carico del pianeta o degli ecosistemi in cui si viveva per migliaia di anni ora però siamo arrivati a un punto in cui non è che è più possibile di fronte a quello che si chiama in ecologia un overshoot cioè un superamento della capacità di carico è possibile migrare da qualche altra parte a questo punto siamo confinati sul nostro pianeta siamo andati dappertutto non ci sono altri grandi scoperti di grandi continenti da dissodare non ci sono le patate da scoprire ancora non c'è il mais da scoprire ancora è tutto praticamente scoperto quindi sappiamo benissimo che per ogni caloria di cibo che noi ingeriamo 10 sono state spese in fonti fossili per produrla evidentemente l'idea stessa che la produzione petrolifera possa o comunque di combustibili fossili possa non crescere all'infinito quando la popolazione è in esplosione è una cosa che dovrebbe far venire qualche dubbio è ovvio che la questione energetica la questione demografica e la questione sono legate all'interno della grande questione ecologica dell'overshoot ecologico della specie umana io su questo secondo me su queste cose qui il 90% o forse più delle persone di buon senso potrebbe arrivare a concordare su questo buon senso qui si dovrebbe costruire un'idea di politiche transnazionali che permettano di affrontare una crisi che è sicuramente transnazionale lo vedremo perché io sono convinto che tutti questi discorsi sulla crisi economica che grattano la superficie del problema non arriveranno mai a nulla se non affrontano il dato di fondo che stiamo vivendo in maniera non sostenibile su un pianeta del quale abbiamo superato la capacità di carico questa è la parte introduttiva ti mi hai parlato della ricerca la ricerca la ricerca la ricerca ora io non ho capito bene la domanda però la ricerca la domanda era di Claudio Scartaferdi che diceva come mai la ricerca in pratica si è fossilizzata si è fossilizzata tanto per usare le parole di suggestione simile a quella di cui stiamo parlando si è fossilizzata sempre sulla diciamo sull'estrazione sull'economia che gravitava intorno all'estrazione petrolifera per troppo tempo in pratica credo che sia interpretata questa è la domanda si diciamo questo non è completamente vero perché in realtà ci sono filoni di ricerca che sono andati nel verso per esempio se si parla di riproduzione energetica si sono spesi dei bei soldi per esempio per la fusione e tuttora si stanno spendendo si sono spesi dei bei soldi per il controllo della fissione per lo sviluppo di centrali nucleari di nuova generazione di vecchia generazione insomma sono anche filoni di ricerca che hanno lasciato un segno anche positivo voglio dire non è che io sono uno che spara a zero contro tutto quello che è stato fatto beh se si sta parlando del fatto del del perché un certo tipo di scenario energetico quindi quello basato su combustibili fossili ha avuto anche prevalenza sul piano della ricerca perché semplicemente fino ad ora ha pagato di più la ricerca va dove sono i soldi non è che chi fa ricerca la fa come ma non l'ha mai fatta perché in realtà voglio dire anche nell'ottocento nel settecento quando nasceva la scienza la scienza come la conosciamo noi ora erano quelli che avevano i soldi già oppure perché avevano qualcuno che gli li dava che faceva ricerca perché la ricerca è un lusso intendiamoci bene io sono convinto che in una figlia io sono ricercatore del cnr io sono convinto che se viene una crisi di quelle buone di quelle buone come me vanno a tappare la terra perché non esiste al mondo che la gente continua a fare la ricerca come l'ho fatta io fino a pochi anni fa che erano di quei tipi di ricerca così un po' accademica in cui si facevano cose che poi colpivano il pubblico magari perché c'erano particelle queste cose qui ma queste sono lussi che le società si possono permettere perché c'è un grandissimo surplus di ricchezza wealth che viene dedicato a questa attività io sono abbastanza poco 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 affezionato alla retorica della ricerca in quanto sviluppo certamente l'uomo è curioso ha sempre occupato il suo tempo libero ammesso che ne avesse per per capire la natura che lo circondava e sicuramente la scienza galileiana ha avuto un grande merito del rendere questo tipo di investigazione della natura fare in modo che seguisse dei criteri razionali irriconoscibili da tutti creare un linguaggio comune però comunque la risposta è che se la ricerca è andata in una certa direzione che è quella del mondo contemporaneo in cui prevale l'uso energetico dei combustibili fossili è perché lì c'erano più soldi che altrove. io sono convinto che un po' di soldi stanno girando anche sulle rinnovabili anche un bel po' ne stanno girando quindi la ricerca sta andando anche in quella direzione lì sicuramente. però ascolta luca anche su questo discorso delle rinnovabili bisogna certe volte fare perché si fa credo anche un po' tutto un polverone perché tranne le rinnovabili e anche comunemente anche dette energie o più o meno sostenibili ecologiche e io ho sentito che qualcuno ha fatto rientrare anche il nucleare come energia pulita è vero che non presenta alcuni problemi di un certo tipo di cioè magari potrebbe alleviare dal peso del petrolio diciamo del consumo del petrolio ma poi ne presenta altri i rischi diciamo incidentali sono magari più bassi forse che l'affondamento di una petroliera però sono enormemente più catastrofici insomma. quindi poi ecco anche per quanto riguarda rinnovabili bisogna un pochino fare per esempio anche la stessa eoli e anche lo stesso eolico che potrebbe avere diciamo che c'è una cosa rinnovabile o impatto zero comunque sia comporta un impatto ambientale qualora non vi sia un tornaconto in termini di energia prodotta perché è capitato anche in Italia che alcune paleoliche siano state impiantate in zone dove il vento non c'era anche quello diventa dannoso insomma dimmi cosa ne pensi. sì no quello la questione dell'uso delle fonti rinnovabili sono una bellissima cosa naturalmente dove servono è chiaro che quelli che hanno impiantato delle fonti delle paleoliche dove non c'era vento hanno fatto soltanto un danno alla stessa idea insomma delle fonti rinnovabili. ma mi sentite ancora? sì sì io ti sentiamo sì sì no perché mi è sparita l'immagine dunque scusa ho perso il filo ti avevo sollecitato anche sul nucleare sul discorso del nucleare viene considerato il nucleare si è autosistemato con la questione di Fukushima che è un caso estremo di idiozia umana in un certo senso io ho la massima stima per il popolo giapponese ma come si vide nelle settimane successive al maremoto che ha determinato per l'incidente terribile di cui ancora non abbiamo visto la fine perché laggiù non se ne parla più perché sui media si parla soltanto delle cose che possono vendere ma essenzialmente il problema ancora non è risolto e si è visto nelle settimane successive che la questione dei terremoti, dei maremoti sulla costa giapponese del Pacifico era nota da talmente tanti anni che sulla costa giapponese c'erano dei cippi di pietra con un'iscrizione sopra non costruite case al di sotto di questo livello ricordatevi dei terribili maremoti del passato noi ci abbiamo costruito le città non solo le case, le città, i porti, gli aeroporti e non contenti ci abbiamo messo anche le centrali nucleari perché questa è veramente la manifestazione di ibris dell'umanità che crede che con la tecnologia può risolvere tutto ci mette una paratia al mare e giustamente il mare non è che si può permettere di passare di qua invece il mare a un certo punto con un buon terremoto ci passa eccome e allora scusa Luca prima che cambi l'argomento proprio su questa cosa di Fukushima allora l'incidente di Fukushima tu lo annoveresti come un accidente di tipo meteorologico o un accidente di tipo... un incidente meteorologico no perché non era un fenomeno meteorologico era un fenomeno sismico ma insomma diciamo naturalistico diciamo naturalistico un incidente non esistono in un certo senso non esistono catastrofi naturali o sono tutte naturali o non lo sono ma la classificazione è di scarso interesse voi pensate anche... quello che importa sono le conseguenze delle grandi catastrofe allora se voi andate a vedere un altro grande maremoto quello che ci fu nell'area di Sumatria e dell'oceano indiano nel 2006 se non sbaglio una gran parte delle vittime furono in zone che un tempo erano occupate dalle mangrovie le mangrovie di fronte a un'onda di maremoto hanno l'effetto di assorbirlo tranquillamente e poi di continuare a vivere successivamente se noi abbiamo occupato queste aree con costruzioni, alberghi o anche villaggi è ovvio, è inevitabile che il livello della catastrofe sia enormemente più alto di quello che sarebbe se la popolazione non vivesse lì è tutto abbastanza semplice, sono chiaramente gli effetti, i maremoti ci saranno sempre e saranno sempre più o meno catastrofici ma se lì a prendere il maremoto c'era un pescatore e tre suoi amici non succedeva nulla siccome invece c'erano delle città intere e delle centrali nucleari e degli impianti industriali la cosa diventa una catastrofe è chiaro che le catastrofi sono commisurate a quanto noi ci esponiamo a tali catastrofi la domanda poteva sembrare perversa, però adesso ti faccio un esempio l'utilizzo di qualsiasi cosa comporta dei rischi se io utilizzando una lampadina che ogni tanto devo cambiare salgo su una sedia che magari è rotta la cambio, provo a cambiarla, casco e mi spacco la gamba e quindi ho un danno diciamo oppure la lampadina si rompe e provoca un cortocircuito e avviene un incendio sono due incidenti di diverso tipo che è importante stabilire le cause perché? perché poi di ogni singola cosa si possa con quell'evento che venga poi inserito in una casistica, una statistica diciamo si possa capire l'utilizzo di quella cosa comporta un tot rischio che è questo se certi casi vengono sottratti dal rischio specifico di quell'utilizzo e diventano per esempio accidente naturale in questo caso tornando al discorso di Fukushima ecco che poi dopo nella casistica diciamo degli anni la statistica del rischio del nucleare diventa più bassa era soltanto per capire perché se Fukushima che è stata una cosa gigantesca e diventa un fatto di tipo sismico e allora quell'incidente di Fukushima quel avvenimento chiamiamolo verrà sottratto dagli annali delle catastrofi nucleari ed è come se non ci fosse mai stato e per qualsiasi paese che vuole valutare l'idea di fabbricare una centrale nucleare avrà, farà dei calcoli prendendo in esame un annuario diciamo degli incidenti e vedrà che c'è una certa statistica che non prende l'evento di Fukushima sì sì ho capito è sismico ecco perché ho capito quello che vuoi dire ma è importante no no ho capito quello che volevo dire ma io senti ti torno a questo libro scritto da Tentere Pacek sull'incidente del Golfo del Messico più i sistemi sono complessi meno abbiamo il controllo sui cosiddetti cigni neri cioè sulle cose che definiamo come tali proprio perché non ne abbiamo controllo cioè sistemi molto complessi non possono essere controllati in tutte le loro parti continuamente per decine di anni se te fai centinaia di centrale nucleari ciascuna di esse ha una probabilità più o meno bassa di avere un incidente gravissimo ma se te ce ne hai centinaia che funzionano per decine di anni sei sicuro sei sicuro ormai la statistica è quella ogni dieci anni abbiamo un incidente grave questa è la fine dei salmi è quella lì insomma uno può continuare a ragionare quanto vuole guarda io ci ho anche lavorato in una centrale nucleare non era una centrale nucleare di potenza era una sorgente di neutroni quindi era una piccola centrale nucleare da 14 megawatt che funzionava esclusivamente per scopi di ricerca però ci ho vissuto dentro per più di un anno ci ho lavorato alle linee intorno alla centrale per più di un anno mi sono reso conto era in Francia mi sono reso conto dei sistemi di sicurezza ed ero sulla questione dei sistemi di sicurezza sono abbastanza ragionevolmente convinto che funzionano al meglio per lo meno in Francia sono convinto che anche in Giappone non è che funzionassero così male anche se sembra che Tepco facesse dei giochetti come del resto l'ha fatto anche il COA in Francia come si sa benissimo dipende un pochino dal controllo dei media su questi sistemi che poi a volte si allenta proprio perché non ci sono incidenti per lungo tempo quindi si scordano che ci devono stare dietro però essenzialmente io non sono nemmeno stato uno visceralmente contrario al nucleare proprio perché un pochino ci avevo lavorato dentro ripeto non in una centrale di potenza però avevo visto come funzionano i sistemi di sicurezza però mi sembra un dato di fatto ogni 10 anni c'è un incidente gravissimo e non sono incidenti che possono essere dimenticati dopo qualche mese perché comunque vabbè gli effetti sono finiti eccetera no quelli sono effetti che durano per decine e decine centinaia di anni io non so la zona di Fukushima per quanto tempo sarà contaminata fra l'altro non ce lo stanno dicendo più quindi ora poi non ho nemmeno i dati più recenti una cosa addirittura che non riguarda soltanto i presenti ma anche le generazioni future purtroppo certamente quindi qui è una cosa che secondo me per questo genere di incidenti non ha ma è veramente difficile anche metterla in dubbio insomma io non so come facciano quelli che che hanno sostenuto la che hanno avuto la sfortuna di sostenere una campagna una campagna referendaria dopo Fukushima essere ancora favorevole al nucleare ma favorevole al nucleare non vuol dire essere contrari al nucleare non vuol dire essere entusiasti di altri sistemi che sono altrettanto complessi come per esempio le grandi piattaforme petrolifere oceaniche perché anche quelli come dimostrano gli incidenti ripetuti di queste cose ogni tanto ogni pochino ne succede una perché perché sono sistemi complessi sono sistemi complessi i sistemi complessi sono intrinsecamente vulnerabili non si sa il momento in cui succederà qualche cosa ma qualcosa succede sempre perché sono costituiti di milioni di parti che funzionano una concatenata all'altra quindi anche tutta questa retorica della tecnologia della grande tecnologia che risolve tutti i problemi la tecnologia è una cosa meravigliosa che ha fatto cose stupende però man mano che i sistemi diventano più complessi diventa sempre più difficile controllarli quindi a un certo punto diciamo che la semplicità nei sistemi di produzione sia di energia che di beni è desiderabile volevo dire un'altra cosa dicevo che il petrolio è rappresentativo in un certo senso del raggiungimento dei limiti dello sviluppo ma voi pensate che noi stiamo attingendo a un enorme quantità di risorse minerali ad esempio che via via diventano sempre più rarefatte e c'è un rarefatte nel senso che si va a sfruttare giacimenti sempre meno concentrati per esempio nel caso dei metalli a dispetto della nostra capacità di riciclarli in grandissima quantità non li ricicliamo mai al 100% nemmeno il rame o l'oro e l'argento che sono riciclabili con discreta facilità noi possiamo riciclarli al 100% perché per esempio le applicazioni di miniaturizzazione che richiedono piccole quantità di metalli richiedono piccole quantità di metalli ma sono piccole quantità di metalli che poi è molto difficile andare a recuperare allora tutte queste quantità di metalli vengono estratte via via da giacimenti sempre meno concentrati il bello è che mentre cosa vuol dire che vengono stati giacimenti sempre meno concentrati che per estrarre la stessa quantità ci vuole più energia allora ci vuole più energia per estrarre e per ottenere i materiali di cui facciamo uso e ci vuole più materiali per estrarre l'energia perché indubbiamente un pozzo petrolifero del 1930 non aveva la stessa quantità di materiali della Deepwater Horizon che è saltata nel Golfo del Messico quindi più materiali richiedono più energia e per estrarre i materiali ci vuole più energia è un circolo di quelli viziosi che a un certo punto è inevitabile che o lo rompiamo noi o si rompe da solo per motivi naturali per questo da questo punto di vista tutto il ragionamento di rientro dolce è sempre stato quello del cambio di paradigma cioè dell'uscire da questa bulimia della crescita e del consumo e entrare in una fase in cui eventualmente i beni materiali hanno maggiore peso che non le cose proprio solide e questo è il rientro di tutto il metabolismo sociale ed economico non soltanto del numero di persone sulla terra anche se quello è essenziale non c'è ombra di dubbio che il numero di consumatori e il numero di inquinatori è fondamentale sì ma al di là dalle teorie pauperistiche che spesso sono dei dardi scagliati contro coloro che obiettano al fatto che questo sviluppo inteso come crescita e consumo possa essere sempre sostenibile sempre in aumento perché poi vengono chiamati tutti pauperisti io sono perfettamente anche io convinto che sicuramente bisognerà riparametrare certe usanze, certi costumi ma anche relativamente a un'altra cosa che poi secondo me è anche un po' correlata l'idea è quella che è stata espressa da Tim Jackson in maniera molto semplice svincolare la prosperità dalla crescita essenzialmente ridefinire la prosperità ridefinire la prosperità come felicità individuale accesso a quello che è assolutamente necessario perché sicuramente mangiare, bere, respirare un'aria ragionevolmente pulita e avere una vita sociale è benessere ed è prosperità quindi molto probabilmente si può vivere a un livello estremamente di alto benessere anche in condizioni di consumi più bassi tutto sta a vedere se il sistema è in grado di fare questa transizione infatti bisogna inserire in questo discorso della felicità anche il discorso della sostenibilità perché la sostenibilità, voglio dire, la generazione presente tra altre cose può essere diciamo in modo mio felice consumando tanto però non lasciando niente per le generazioni future consumando e deteriorando e così via quindi poi alla fine è una felicità effimera ma volevo dirti appunto di fare un link relativamente alla questione energetica, al petrolio anche con il consumo dell'acqua che è un consumo che è sempre stato molto sbilanciato rispetto ai paesi più ricchi con dei consumi pro capite che sono stellari parliamo di metri cubi a testa quando in altri paesi del mondo non hanno neanche da bere un litro d'acqua al giorno a testa e questa è una cosa necessariamente secondo me che mentre bisogna fare in maniera e ci sarebbero i modi di portare l'acqua lì o di trovare l'acqua in quei posti ma secondo me a livello globale non è sostenibile ovviamente che noi consumiamo e sperperiamo nei paesi più ricchi come possiamo chiamarli l'acqua in questo modo come lo facciamo adesso insomma secondo me è una sostenibilità che non c'è a prescindere dal non estratto oppure è un discorso anche un po' economico anche numerico insomma ecco anche se diciamo che l'acqua che non consumiamo qui o che consumiamo qui non è che la consumerebbero laggiù però sicuramente i livelli di non sostenibilità sono misurabili dal punto di vista di tantissime risorse non solo sicuramente non rinnovabili ma anche di risorse cosiddette rinnovabili anche perché la rinnovabilità è una questione di tempi di ricostituzione di una risorsa se uno sfrutta come hanno fatto per decenni per esempio risorse idriche fossili che si ricostituiscono in migliaia di anni quella lì è una risorsa che dal punto di vista della vita di un uomo è essenzialmente non rinnovabile lo stesso vale per esempio per il suolo agricolo il suolo agricolo è una risorsa che si ricostituisce molto lentamente quando noi abbiamo desertificato un ettaro di terreno agricolo l'abbiamo desertificato essenzialmente per sempre dal nostro punto di vista dal punto di vista nostro e delle generazioni future deserto è deserto resta poi dopo un giorno quando le condizioni saranno tali per ricostituirsi un terreno fertile ci vorranno migliaia di anni quindi questo è sicuramente la questione delle risorse rinnovabili e non rinnovabili si gioca a volte sui tempi di ricostituzione di queste risorse ovvio che il pesce per esempio del pesce degli oceani è una risorsa intrinsecamente rinnovabile perché i pesci si riproducono ma se uno li pesca con i metodi della pesca industriale che tira su tutto porta le popolazioni al collasso in cui sono al momento quindi te hai dei comportamenti non sostenibili della nostra specie in particolare naturalmente quel miliardo di persone che vivono nei paesi sviluppati e quegli altri miliardi che vivono nei paesi ormai già ampiamente in via di sviluppo che è palese, è indiscutibile io oserei dire anche che non è etico c'è anche un aspetto etico ecco ragazzi mi dispiace dovremmi interrompere ma è scaduto il tempo a nostra disposizione ecco se volete dire l'ultima cosa io intanto ringrazio Luca della partecipazione è stato molto interessante e rinnoverei ovviamente l'invito per un ulteriore appuntamento se vuole per continuare a specificarci qualche altra considerazione su questo argomento oppure su altri temi dell'energia io come cosa conclusiva volevo dire che alla fine del mese il 28 a Firenze ci sarà il convegno nazionale dell'associazione per lo studio del picco del petrolio che si terrà a Firenze nella sede della regione e che sarà aperto dall'intervento di Rian Johnson che è il segretario generale del club di Roma tutti sanno che il club di Roma è quell'entità che dette il via alla discussione sulla sostenibilità e sui limiti dello sviluppo e poi ci saranno tanti altri interventi interessanti interverrà Luca Mercalli, interverrà Silvi Quaiò, la sferda giornalista del Sole 24 ore insomma sarà una kermesse abbastanza interessante fra l'altro nel pomeriggio ci saranno anche delle rappresentazioni teatrali intermezzate ai seminari perché cerchiamo di migliorare anche il livello di comunicazione di queste cose che a volte appare noioso come probabilmente sarà stato per la maggior parte delle persone stasera cerchiamo di migliorarlo il più possibile quindi il 28 ottobre a Firenze nella sede della regione il convegno nazionale di Aspo Italia Perfetto, sicuramente ci saranno altre occasioni Luca per ricordare questo appuntamento io saluto e ringrazio Gian Nicolacione e Luca Parmi Ciao Luca, grazie a voi Alla prossima volta torniamo nello studio di Lecce Ciao 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 Ciao